Sì, dai, una bella prestazione, ci siamo divertiti in campo, ci siamo divertiti perché quando giochi così viene tutto bene, è normale che ci si diverta, dobbiamo essere bravi a non montarci la testa, a rimanere con i piedi per terra perché sono soltanto tre punti importanti, però sono tre punti e si guarda avanti. La mia voglia è sempre quella, è sempre quella da quando sono ragazzino, da quando gioco a polla a volo, quindi viene fuori l'anima, quindi oggi stavo bene, mi sentivo bene, una prestazione penso che mia è stata mediamente sopra le righe, anche grazie ai ragazzi che comunque hanno ricevuto bene, Simone Giannelli mi ha alzato dei bei palloni, quindi bene.